Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con Fantasiastore.it dove se inserirete il codice ARCONT del crogiolo19 riceverete il 5% di sconto Signori, ben ritrovati sul canale, oggi siamo tornati dopo le due live che ci hanno introdotto tutti quanti alla terza espansione di Keyforge Mondi in Collisione non per un unboxing ma per vedere qual è la differenza tra l'Aries Deckbox e il Keyforge Deckbook quindi andiamo subito a vedere quali sono i pro e i contro di entrambi Allora andiamo subito a vedere qual è la differenza tra uno e l'altro questo già l'ho spustato perché non ha una confezione elaborata come il Deckbook possiamo già vedere subito una differenza sostanziale a livello di dimensioni magari però andando a scartare il Deckbook magari troveremo dei piccoli supporti in cima che magari gli danno questa forma un po' più grande vorrei dare prima spazio all'Aries per analizzarlo un po' è un portamazzo di plastica, è molto semplice come design ha queste ziglinature qui dietro che a differenza invece di un Deckbox normale può diciamo conferirgli una vita maggiore queste ziglinature qui dietro hanno la funzione insomma di andare a staccare questa parte da tutto il corpo cosa che invece nei Deckbox normali non esiste infatti è questo poi quello che succede a lungo andare si stacca praticamente la linguetta laterale e questo gli conferisce una solidità possiamo dire maggiore rispetto ai Deckbox tradizionali della Ultra Pro quando lo andiamo ad aprire possiamo trovare il tipico foglietto con gli sticker delle casate dove c'è anche la presenza delle due casate nuove Repubblica Sauriana e Federazione Stellare che possiamo andare ad incollare dove c'è lo spazio per il trittico quindi qualsiasi sia la casata del nostro personaggio, del nostro arconte noi possiamo andare ad attaccare direttamente sopra il Deckbox per riconoscerlo al volo e qui possiamo andare a scrivere il nome del nostro arconte andiamo a vedere come si comporta con un mazzo di Keyforge che già è stato precedentemente preparato perfetto, ci entrano in maniera perfetta d'altronde questo Deckbox è stato creato apposta per i mazzi di Keyforge e quando andiamo a chiuderlo dà un po' di resistenza infatti se ci fate caso quando lo andiamo a chiudere si creano queste piccole bombature ai lati non so se dall'altra parte succede la stessa cosa, sì ma è meno percettibile mentre da quest'altra parte proprio si vede che si crea un piccolo bozzetto che a lungo andare potrebbe danneggiare la struttura quindi un punto negativo di questo Deckbox è proprio la poca mobilità e il fatto che questa parte qui infatti già si sta scheggiando piano piano questa parte qui va da accozzare qui e quindi si crea questo fastidioso alone sul lato ma per il resto è un ottimo Deckbox, è molto solido quando lo andiamo a muovere non si apre o almeno si si apre ma insomma dobbiamo proprio andarci di cattiveria per poterlo aprire è stabile, come struttura è molto stabile ha anche le scritte Keyforge sui lati proprio perché è stato creato per il gioco di Keyforge esiste in tre varianti di colori come sicuramente molti di voi sapranno blu, rosso e nero vedremo in sezione pro e contro se ne vale veramente la pena comprarlo oppure no passiamo a vedere invece adesso il Deckbook Deckbook che ha una scatola molto più appariscente con innumerevoli scritte e disegnini che fanno capire quanto è stato investito per creare questo portamazzi andiamo subito ad aprirlo in cima e troviamo qui delle scritte ti stavo aspettando tirami su quando andiamo a tirarlo su e infatti come già dicevo precedentemente ci sono dei piccoli rialzi qui che danno l'impressione che il portamazzo sia un po' più grande ma in realtà che è leggermente leggermente più grande rispetto al portamazzi di plastica qui c'è un effetto sicuramente migliore al tatto rispetto all'Aries visto che il Deckbook comunque davvero è molto più ben strutturato troviamo all'interno una lettera di ringraziamento un fogliottino di ringraziamento da parte della Gamegenic poi c'è scritto dietro disapprovi qualcosa? puoi chiamarci e cerchiamo di risolvere qualsiasi tipo di problema e qui troviamo una scritta di Keyforge dorata bellissima a vedersi se tocchiamo l'interno del portamazzo sentiamo che praticamente è similfelpato al tocco è veramente fantastico ragazzi poi c'è questa chiusura praticamente è magnetica e qui dietro il simbolo della Gamegenic vediamo subito dove va messo il mazzo e dove va messo l'arconte ovviamente l'arconte va messo qui c'è una tasca apposita qui c'è una tasca apposita che va bene anche per arconti che hanno le buste protettive e qui c'è invece di continuare a tirare se ci fate caso qui c'è un ovale che serve proprio per tirare giù il nostro arconte questa è l'immagine che vediamo fuori si legge il nome dell'arconte e qui ci sono le tre casate che rappresentano il nostro mazzo il mazzo invece va ovviamente messo qui ed è perfetto perfetto nel suo utilizzo dopodiché andiamo a chiudere con il magnete facciamo la prova di resistenza niente perfettamente stabile la calamita regge tutto e questo dà sicuramente una stabilità maggiore al mazzo lo rende inapribile accidentalmente ciò ci dà una sicurezza maggiore perché non rischiamo che le nostre carte volino improvvisamente nel bel mezzo della stanza creandoci non pochi problemi quindi sicuramente un ottimo portamazzi ragazzi per il costo che vale davvero ne vale la pena passiamo subito a vedere quali sono i pro e il contro di questi due portamazzi c'è un rapporto 1 a 5 ovvero con la spesa del deck book riuscirete a comprare 5 deck box calcolando che il book costa intorno ai 15 e il box costa intorno ai 3 il book è molto più resistente del box avendo una composizione che non si ferma alla semplice plastica ma non è immune alle cadute il box si infatti avendo un solo componente strutturale il box attutisce meglio le cadute accidentali mentre il book rischia di ammaccarsi soprattutto agli angoli danneggiandosi irrimediabilmente entrambi però chi più e chi meno soffrono i graffi il box si pulisce con una semplice pezza bagnata il che lo rende perfetto anche in situazione di sporco stinato e poi parliamoci chiaro un portamazzi di plastica che si sporca non dà fastidio praticamente a nessuno mentre il book è più soggetto a sporco pulirlo non richiede una semplice passata di panno ma un trattamento più delicato e se si tratta di sporco stinato valutate anche l'idea di cambiare portamazzo senza neanche a dirlo il book ha dei materiali nettamente migliori rispetto al box essendo costruito in nexofiber all'esterno e microfibra all'interno il book invece è interamente costruito in plastica entrambi tengono il mazzo al sicuro ma se da una parte il box si chiude come un tradizionale portamazzo di plastica il book ha la chiusura magnetica che non dà spazio ad apertura accidentali potete vederlo da voi il book è molto più bello del box ma se è vero che è bello ciò che piace il box potrebbe colpirvi di più per la sua struttura più compatta e spartana a voi la scelta il box riporta le sezioni delle casate il nome dell'arconte e il logo del gioco ai fianchi e della casa produttrice sul dorso il book invece ha rifiniture più dettagliate nel rilievo che portano il marchio del gioco in facciata e sul fianco sinistro e il marchio della casa produttrice come sempre sul dorso è una bellissima scritta dorata che riporta sempre il nome del gioco all'interno il book è più spettacolare avendo la tasca dell'arconte incorporata nel portamazzo con supporto di inserimento facile per la carta che rappresenta il nostro arconte e l'apposito spazio che dà la possibilità di estrarre il proprio mazzo in tutta tranquillità e semplicità il box ha la possibilità di ospitare il nostro mazzo senza troppe pretese e questo per molti giocatori potrebbe rappresentare un più che valdo motivo per optare per il box quale scegliere? entrambi hanno dei pro e dei contro ed entrambi sono funzionali a modo loro l'unica cosa che posso consigliarvi è quella di prendere in esame il vostro effettivo bisogno e di agire di conseguenza è stato un piacere avervi con me in questo primo video in confronto del canale signori noi ci vediamo alla prossima ciao ciao